Scusa, ripetendo il discorso di prima e quanto riguarda i giovani, che si lamentano di volontà, si lamentano giustamente secondo me, perché ci dobbiamo mettere in testa i ragazzi di 20 anni, cioè se uno vuole capire bisogna ragionare come loro, altrimenti noi abbiamo 50, quindi si lamentano che non esistono discoteche a Otrant, non esistono più, sono state tutte mandate via, tutte chiuse, diciamo da 7-8 anni, 10 anni a questa parte, piano piano sono state tutte mandate via nel territorio di Otrant, sono state tutte costrette a chiudere, sono state costrette a chiudere, in pratica, da sbariati motivi, quindi si parla delle ordinanze della musica, ma senza conoscere le sanno, senza conoscere, le parlano perché non si prendono la briga di informarsi, perché sono comodi i nostri giorni, le sanno, hanno un riferimento loro con Gallipoli, dicono a Gallipoli l'ordinanza del sindaco dice che fino alla fine del 3 metri si può fare musica, e loro non sanno che il sindaco di Gallipoli prima di cadere invece aveva chiesto al sottoscritto di avere copia del decreto, non dell'ordinanza, il decreto che noi invece abbiamo vigente a Otranto, che diversa ordinanza, l'ordinanza limita, impone il decreto regolamenta, ad Otranto, non so se avete visto, ma quasi tutti i locali durante l'estate fanno intrattenimento, non lo fanno tutti insieme in maniera confusa, non fanno chiaro, ma regolamentati, oggi possono farlo, e anche fino ad una certa ora della notte, pur non essendo discoteche, quindi il giovane non sa, il problema è che però non c'è l'iniziativa privata a realizzare discoteche, si potrebbe anche farle ad Otranto, certamente quelle che sono nate negli anni non erano state programmate in una previsione urbanistica e quindi scontavano la incompatibilità con altri interessi, perché se tu mi fai la discoteca al centro del paese, è normale che poi ci sono gli interessi di chi una mattina deve alzarsi che difficilmente riesce ad accettare il presente, anche Alipoli e a Santa Cesarea hanno immaginato di farle distanti, una discoteca che è storica del territorio salentino e che sono la Baia di Alimini, c'era e continua ad esserci, poi oggi non va, se il ragazzo pretende di avere la discoteca sotto al moletto, è normale che non potrà mai averla e non ce l'avrà in nessun territorio, perché i nostri giovani non sanno a Gallipoli, ora dove stanno le discoteche devo dire, non stanno al centro, stanno periferiche ed è quello che noi ci stiamo proponendo nel piano urbanistico, andare ad individuare aree nuove da sviluppare in termini di intrattenimento antipositare, il divertimento non è rappresentato, è ovvio che anche il divertimento sprenato con quanto era di scarico negli altri interessi, perché chi come te si deve alzare la mattina le volte ad aprire il negozio, lo può tollerare una, due volte a settimana ma tutte le sere non ce la fa, però se parliamo con l'edato, con l'iniziativa privata dove una persona decide di investire, ne ho viste poche, poche e poche. Non c'è un giovane di quelli che si lamentano di aprire una discoteca, sono poche, io credo che per quanto riguarda... Se fosse veramente così sentito, ma sono discorsi per riempirsi pure la tutela, spesso in ostacolo, perché non si attivano per aprire qualche iniziativa del genere, se c'è l'esigenza dell'intrattenimento, ecco è che poi questi giovani non si lanciano su qualche iniziativa di dover aprire e dare risposta ad una domanda, visto che c'è un commercialista, i giovani poi sanno che se guadagnano le 100 euro... E quindi da lì mi ha detto che il giusto punto è che si parla ad ascoltare e apporce le donne i dubbi, non dare l'ascoltato che non sia così... Sono successe scene, per esempio, nel mese di agosto che giù al Moro tutti suonavano, ballavano, cantavano, a l'una e mezzo precise, è arrivata la polizia e si è beccato un sacco di fischi della gente che giustamente si stava divertendo... che purtroppo il moletto addirittura non nasce nemmeno come bar, nasce come consenso... Non possiamo pretendere che da un'attività improvvisata di quasi venditore ambulante poi lo si traduca in discoteca stabile, dobbiamo capire che non è lì che si può fare una discoteca perché le normative non lo consentono, perché c'è un piano di insonizzazione acustica, perché c'è comunque esigenze diverse, perché ci sono interessi... Ma sono difficili per te, per me, ma dobbiamo sforzarci di farlo, ecco perché poi un sindaco che non sono io Luciano Treidi ma un sindaco che rappresenta la città deve arrivare a fare dei decreti per regolamentare e indirizzare, perché se tutte le sede che il moletto aprisse e funzionasse fino alle tre come discoteca è ovvio che la città non vi prende più, non può essere, se però glielo fai fare una o due volte a settimana tutto sommato si può tollerare, perché poi quando non lo fa il moletto il giorno dopo lo fa la suite del mare che sta comunque... se non la fa la suite del mare lo fa Atlantis, lo fa la Castellana, non lo fa la Castellana lo fa qualcuno nel centro storico, per cui c'è sempre qualche movimento in città e che cerchiamo di non farli più corsare l'un con l'altro per non creare poi il frasfuono. Regolamentare serve ovunque dove c'è un vivere sociale. Il problema è sempre l'orario, è sempre l'orario di misura. L'orario per il santo lo puoi, deve essere la discoteca, se tu pretendi che poi devi ballare fino alle quattro, allora devi andare al Bahia, quella è una discoteca, quella nasce come discoteca. No, è antipatico, manda le forze dell'ordine. E' antipatico perché il gestore non ha rispetto alle regole, è sempre antipatico quando deve intervenire uno sceriffo a far rispettare, ma non solo nell'intrattenimento, anche quando butti un sacchetto di dimondizia come non devi, e quello è sempre antipatico Sandro. Però sta nel rispetto delle regole, se il gestore sapendo che deve chiudere alle due, chiude alle due, non arriverà mai il sceriffo a dire ragazzi via, smorza prima, spiega che la serata può continuare presso il discoteca perché c'è l'offerta anche per l'altro orario poi di intrattenimento. Non può essere lui che sta lì e che non è nato per quello. Ah, lo sento qua a finire? Non è che ne vediamo improvvisare se non vedo tutti il bar che diventa ristorante da un giorno al domani, da un giorno all'altro, dall'oggi al domani. Bisogna pure essere professionali nell'organizzare queste attività imprenditoriali. Ecco perché dico poi quanti ragazzi veramente vogliono fare il discoteca fanno i baretti perché è comodo per poi pretendere di trasformarsi in discoteca sul suolo pubblico poi più delle volte, nemmeno nei locali. No, è solo suolo pubblico. Le discoteche di Galipoli, le discoteche di Galipoli, che sono tutte proprietà private invece, sono club organizzati. Hai tutte le autorizzazioni, quelle dei viti e fuoco, sul suolo pubblico. Assume la responsabilità, l'amministrazione comunale, sia dal punto di vista acustico ma anche dal punto di vista dell'inordine di sicurezza. Fortunatamente, non è successo mai nulla. Ma se potesse succedere qualcosa, con tutto rispetto alle Galipoli, se quelli non sono locali, sono un'obbligazione molto periferica a consentire che, teoricamente, poi ogni commercialista come me quindi ve lo può ribadire, teoricamente un bar o un ristorante non può fare pubblico in partecipazione. Sono deloghi che consentiamo noi per sviluppare le attività, per dargli servizi, per far divertire anche i turisti. Ma pure noi ci vogliamo divertire. Però sono deloghi. Ecco perché in quel caso il regolamento, il decreto, consente, non limita, non esclude, consente il regolamento in questo caso. Ecco perché lo avevano preso anche ad esempio a Galipoli. A Galipoli, invece, che hanno tentato la scorsa stagione, prima che cadesse l'amministrazione, anche di limitare le discoteche, cosa che noi alle discoteche non facciamo proprio. Noi vanno fino alle quattro, quattro e mezzo per smorzare e poi chiudono, come da prefettura. A Galipoli hanno cercato invece di ridurre gli orari delle discoteche la scorsa stagione. Poi si sono rivolti altari. I gestori hanno vinto impugnando l'ordinanza del sindaco. Addirittura Galipoli è andato oltre invece quello che abbiamo fatto noi. Hanno voluto copiare il nostro decreto per agevolare anche loro le attività di somministrazione perché potessero fare intrattenimento. Ma nel frattempo stavano limitando, avevano cercato di limitare invece gli orari di chiusura delle discoteche e poi hanno ovviamente perduto al TAR. Quindi non c'è stato preso. Secondo il mio avviso, essendo un giovane, è limitativo parlare del fatto che ci siano meno discoteche che ho detto inquadrate nel discorso divertimento meno. Secondo me noi giovani abbiamo bisogno di una discoteca come divertimento. Secondo me ci dovrebbero essere degli spazi dove i ragazzi si possono divertire. Parlo semplicemente anche dello sport. Cioè è limitativo perché tanto la discoteca è una volta alla settimana e il sabato sera. Quindi il fatto che ci sia o non ci sia durante l'inverno voglio dire per noi giovani, poi non tutti i giorni vanno in discoteca, quindi è un fatto secondo me buono. Per se stessa forse sia un concetto. Eh sì, non è un discorso così. Si vede di più il baretto. Secondo me mancano tanti altri spazi. Mancano tanti altri spazi tipo una piscina comunale, tante altre... Ecco, così. Ricreative. Ricreative. Quelle mancano. Più che la discodetta. A discodetti le strutture che sono proprio uno dei punti forti che noi vogliamo portare avanti con il nuovo Pug e che non sono solo discodetti. Sono appunto quegli spazi di piscina, ma di piscine grandi che quasi emulano le spiagge che trovate in tantissime località turistiche internazionali. Sono quelle strutture che ti fanno da babysitter, da baby club, da self service, da colazione la mattina, da massaggi durante il giorno che si trasformano in discoteche o American bar la sera, che fanno anche teatro e che organizzano anche il concerto. Sono quei club, quelle strutture, quei servizi turistici che ad Otranto non abbiamo pianificato in passato ma che oggi con quella che è l'immagine turistica di Otranto non possiamo non prevedere. Occorre trovare le direttrici, le zone esatte in cui collocarli dove si è certi che la loro attività non vada ad impattare poi su altri interessi, su altre esigenze con altre, diciamo, libertà altrui. Quindi su quello che stiamo lavorando, sul Pug in modo appunto già da individuare le aree disponibili da tipizzare perché si possano creare. da parte di qualche giovane che sicuramente rispetto a noi ha delle idee più chiare poi in questo settore dei punti appunto ricreativi, delle istruzioni ricreative che portano divertimento per noi cittadini ma anche servizi per gli ospiti che vengono in vacanza. Cioè può rifunzionare strutture e può rifunzionare quella? Assolutamente. Che la discoteca si riferiva, Francesco, a delle strutture di aggregazione anche per fare aggregazione nel sociale come altrimenti succede che c'è anche apatia fra i giovani quello che stavamo discutendo prima. Sul discorso sociale, per esempio, come spazi pubblici il Don Gennombello che ho detto prima ha tutto sommato dato una risposta già abbastanza positiva può crescere, migliorarsi ma sta poi all'iniziativa di chi vuole eventualmente servirsene. Grazie a tutti.